Rendere nota l'attività in Africa dell'Associazione Sorridi con Uconu Africa Onlus in vista della 24esima missione in programma a partire dal 30 ottobre in Benin. È l'obiettivo del progetto Aiutiamoli a casa loro, presentato questa mattina nei saluni del circolo nautico Posillipo. Aiutiamoli a casa loro è uno slogan spesso usato in un'accezione negativa, che diventa invece il cuore e lo slancio per le missioni umanitarie in Africa e che motiva i volontari dell'Associazione Sorridi con Uconu Africa Onlus da anni impegnata ad aiutare le popolazioni africane, dando un contributo reale attraverso la costruzione di strutture educative, sanitarie e imprenditoriali e soprattutto attraverso l'operato di medici chirurghi volontari di Napoli. Ascoltiamo il presidente del circolo Vincenzo Semeraro e il professore Enrico Di Salvo, presidente della Onlus. Noi siamo aperti al sociale da un po' di tempo, direi forse da qualche anno. Questo obiettivo ce lo siamo sempre posti, abbiamo cercato di collaborare il più possibile. Ringraziamo tutti coloro che vengono e ci chiedono ospitalità per fare questo. Io dico sempre che il male è molto contagioso, ma il bene lo è di più. Quindi nel percorso di queste cose che noi facciamo per i poveri, per i bambini, per le mali che partoriscono, per tutti coloro che soffrono la difficoltà del vivere, noi abbiamo trovato sempre delle persone straordinarie. Intervenuti il professore Giuseppe Servillo, ordinario di anestesia e direttore del Dipartimento di Nefrologia, Urologia, Chirurgia Generale, Trapianti di Rene, Anestesia e Rianimazione dell'Università Federico II, e Giuseppe Gambardella, console della Repubblica del Benin a Napoli. È un progetto molto importante che vede soprattutto la presenza di un corpo di medici che va ad aiutare l'assistenza sanitaria all'interno delle regioni dove c'è bisogno di una umanizzazione ed è per me stata un'esperienza molto positiva per quanto concerne i medici in formazione, gli specializzanti che di anno in anno seguono il professore Enrico Di Salvo e la sua equipe chirurgica e che tornano con un bagaglio di informazioni sia formative che proprio sul piano personale di estrema importanza e di estrema validità. Credo appunto in un momento difficile che non dico non solo l'Europa ma bensì il mondo occidentale sta attraversando con il problema dell'immigrazione, credo che è proprio là, in quelle terre bisogna aiutare queste persone. Quando parlo di quelle terre non parlo soltanto della Repubblica del Benin che noi rappresentiamo qua a Napoli ma anche di altri paesi in via di sviluppo.